Buongiorno a tutti e un ringraziamento a voi che siete collegati per la vostra attenzione e soprattutto un grazie al professor Zecchina per avermi coinvolto in questo progetto. I composti naturali, per certi versi, sono dei veri e propri capolavori della natura, delle opere d'arte e come i dipinti, come le statue, come le cattedrali hanno una loro storia. Oggi parlerò della storia dei cannabinoidi, ma non voglio fare un torto alla canapa, alla pianta che li produce e per cui prima di parlare dei composti chimici volevo dire riassumere brevemente la storia di questa pianta. La canapa è una pianta esotica originaria dell'Asia centrale. Mi rendo conto che l'Asia centrale è un po' vago dal punto di vista geografico, va dagli Urali alla Manciuria, ma degli studi recenti basati sui pollini hanno permesso di definire meglio dal punto di vista geografico l'area di origine. L'assunzione che si fa in questi studi sui pollini è che l'area di origine di una pianta sia quella in cui si trovano i sedimenti più antichi che contengono il polline della pianta. Il problema è che il polline della canapa è molto simile al polline del lupolo, che è anche l'unico suo parente botanico. Tuttavia l'habitat in cui crescono queste due piante è diverso e basandosi sullo studio dell'intero profilo pollinico dei sedimenti si è arrivata alla conclusione che la canapa sorprendentemente è originaria del Tibet. Dal Tibet l'uomo lo ha poi diffusa in tutti e cinque i continenti. In Europa la canapa si coltiva se corretta la datazione di questo frammento di corda ritrovato nella Repubblica Ceca da almeno 30.000 anni ed effettivamente secondo alcuni la canapa sarebbe stata la prima pianta coltivata dall'uomo e questo per la sua valenza multipla, tecnologica, pianta da fibra, alimentare nei semi e medicinale per la resina. Fino all'espansione coloniale dell'Ottocento in Europa la canapa è essenzialmente una pianta da fibra. Il periodo d'oro della canapa inizia con l'invenzione della stampa a caratteri mobili e prosegue poi con l'età delle esplorazioni. Gutenberg fa due versioni della Bibbia una la stampa su pergamena e l'altra la stampa su carta e la carta è carta di canapa oltretutto canapa piemontese che viene da Caselle. L'età delle esplorazioni si fa sui velieri e i velieri utilizzano delle quantità enormi di canapa non soltanto per le tele ma anche e soprattutto per tutto il cordame nautico. La canapa ha un ruolo unico nel cordame nautico in quanto sopporta molto bene la salsedine. Nell'Ottocento abbiamo un ridimensionamento della coltivazione della canapa legato a tre scoperte importanti. La canapa perde delle quote di mercato la prima è la scoperta della o meglio la tecnologia della meccanizzazione della filatura del cotone. La seconda è l'invenzione della nave a vapore per cui nelle navi la canapa serve soltanto più per fare le corde non per fare le vele e poi nella seconda metà dell'Ottocento abbiamo lo sviluppo della tecnologia Kraft per ottenere pasta di cellulosa dal legno. Notiamo che la fibra di canapa ha delle proprietà migliori rispetto a quella di cotone e rispetto alla carta dal legno. La canapa però ha una riduzione delle quote di mercato e viene utilizzata per degli usi particolari ad esempio per quella che si chiama la Bible paper. La Bibbia è un libro molto spesso e quando uno deve relegare un libro spesso bisogna che i fogli siano molto sottili. La carta fatta col processo Kraft non è adatta, non è robusta a sufficienza per cui per questi libri spessi si continua a usare la fibra di canapa. Intanto siamo arrivati all'Ottocento e nell'Ottocento l'Europa scopre che esiste anche un'altra canapa la canapa a resina. Questa scoperta è legata alla espansione coloniale dei francesi in Africa e degli inglesi in India. Napoleone va in Egitto e in Egitto subisce un attentato. Una persona intossicata da Ashish cerca di pugnalarlo e Napoleone emette quello che è il primo dei numerosi che seguiranno poi negli anni a venire di vieti sull'utilizzo della canapa. Vieta l'Ashish in Egitto. A Parigi abbiamo poi il cosiddetto Club des Ashishens il quale è più che altro un mito letterario. L'Ashish non piace proprio a nessuno in particolare non piace a Baudelaire il quale scrive un libro sull'Ashish ma più che altro per criticarlo. E guardate che cosa dice dell'Ashish nel libro. L'Ashish è tipico delle persone indolenti e se un artista ha bisogno dell'Ashish per ispirarsi non è un vero artista. In Inghilterra invece l'interesse per la canapa a resina è legato al suo utilizzo medicinali e questo parte dalla missione in India di Oshonesi. Oshonesi è un medico irlandese che se ne intende anche di telegrafia e viene mandato in India per costruire il sistema telegrafico in India. Oshonesi è considerato la persona che salvò l'impero coloniale inglese in quanto la grande rivolta indiana del 1857 potesse essere sedata proprio grazie alla presenza del telegrafo. Oshonesi però non si dimentica di essere un medico e scrive anche un articolo in cui riporta gli utilizzi dell'Ashish medicinali in India. In particolare ce ne sono due che verranno molto importanti negli studi moderni cioè quello sulle epilessie infantili e quello sulla spasticità da tetano la spasticità muscolare. Nella seconda metà dell'Ottocento questo è l'articolo di Oshonesi nella seconda metà dell'Ottocento la tintura di canapa entra nelle principali farmacopee europee. Non è molto usata essenzialmente come analgesico e come sedativo e qui abbiamo una delle tante grandi bufale sulla canapa. Se voi andate su Google e scrivete Regina Vittoria e Cannabis vi vengono fuori delle centinaia di riferimenti secondo i quali la Regina Vittoria che per tutta la sua vita fertile soffrì di dismenorrea sarebbe stata curata con la tintura di canapa. Questa fake news per così dire è talmente diffusa che una rivista importante di storia della medicina ha dovuto pubblicare proprio un articolo per sfatare questa diceria. Cioè effettivamente la Regina Vittoria soffrì di dismenorrea per tutta il suo la tua età fertile ed effettivamente Reynolds fu un medico associato alla corona inglese. Però Reynolds non fu mai il medico personale della Regina Vittoria e inoltre fece i suoi studi sulla dismenorrea e la canapa quando la Regina Vittoria aveva ormai 70 anni ed era in menopausa da tempo. l'utilizzo medico della canapa diminuisce sempre con il progredire delle conoscenze mediche. Abbiamo detto che gli utilizzi principali della canapa sono come sedativo e come analgesico e alla fine dell'Ottocento comparino i primi farmaci di sintesi. Ludwig Knorr l'allievo prediletto del grande grandissimo Emil Fischer scopre l'antipirina un analgesico ed Emil Fischer scopre i barbiturici come sedativi. L'utilizzo della canapa ha ancora diciamo la canapa medicinale ha ancora qualche utilizzo medico in particolare quello diffuso negli Stati Uniti per il trattamento della cefalea ma a questo punto siamo arrivati nel novecento e la canapa subisce un altro ridimensionamento. il primo ridimensionamento è legato alla meccanizzazione della raccolta del cotone la fibra di cotone diventa sempre più competitiva rispetto alla fibra di canapa il secondo ridimensionamento è quello legato alla scoperta dei polimeri di sintesi Caroters negli anni trenta scopre il nylon e a questo punto però si inserisce anche il proibizionismo negli Stati Uniti nel milenovecentotrentasette per delle ragioni ancora adesso non del tutto chiare viene messa una tassa altissima su tutte le transazioni a base di canapa l'unica l'unica l'unici che si oppongono sono i medici l'ente l'associazione dei medici americani è contraria però il governo mette questa tassa che dal punto di vista pratico non mette fuori legge ma rende praticamente impossibile l'utilizzo della canapa ecco una delle cause è l'associazione della canapa con l'immigrazione illegale messicana a seguito della guerra civile del Messico il sud degli Stati Uniti accoglie o meno vengono nel sud degli Stati Uniti molti immigrati messicani questi fumano effettivamente la marijuana e diciamo che il proibizionismo è molto efficace negli Stati Uniti al punto che negli anni 60 quando Raphael Meshulam il chimico israeliano che poi isolò il principio narcotico della canapa chiede un finanziamento alla DA l'ente americano per i narcotici gli dicono no guardi qui la marijuana non la fuma nessuna è una cosa che riguarda solo i messicani poi con gli IPIS le cose cambieranno in modo drastico intanto vediamo nel grafico come continua a declinare la coltivazione della canapa anche in Italia e poi si azzera all'inizio degli anni 60 quando la canapa in tutte le sue forme viene inserita nella lista ufficiale delle piante narcotiche ma arrivati a questo punto è importante c'è un intervallo importante nella seconda guerra mondiale la canapa torna di nuovo in auge per ragioni belliche serve per fare corde per fare attrezzature legate agli impieghi bellici e poi alla canapa è associato un fatto abbastanza brutto che succede nel processo di Nuremberg le condanne a morte devono essere fatte per impiccagione e si discute che canapa utilizzare la canapa migliore è la canapa italiana poi c'è la canapa russa però l'Italia è una potenza che ha perso la guerra la Russia non va già molto d'accordo con gli Stati Uniti alla fine si sceglie la canapa inglese il Boia è uno psicopatico il quale fa di tutto per prolungare l'agonia dei condannati a morte scandalizzando persino i delegati russi però questa non è colpa della canapa assolutamente allora dicevo prima che adesso siamo arrivati al punto in cui è necessario introdurre in questo discorso i cannabinoidi i cannabinoidi hanno una storia molto confusa come vedremo durante l'Ottocento si cerca di isolarli ma non si arriva a niente e questo vedremo è paradossale perché nell'Ottocento le metodiche di isolamento dei composti naturali sono basate essenzialmente su delle ripartizioni acido base i cannabinoidi non sono dei composti naturali vengono prodotti in forma acida e quindi se si fosse lavorato ad esempio con la canapa da fibra oppure con dell'aschis non vecchissimo sarebbe stato possibile isolare dei derivati cristallini l'inizio delle ricerche sui cannabinoidi non è soltanto confuso ma anche tragico tre ricercatori inglesi dell'Università di Cambridge alla fine dell'Ottocento riescono a purificare il primo cannabinoide dalla canapa dall'aschis lavorano sull'aschis di origine indiana il processo è molto macchinoso e comporta la distruzione dei cannabinoidi originali per cui quello che isolano è un artefatto il cannabinolo il cannabinolo non è un cannabinoide naturale è un prodotto di duplice degradazione dei cannabinoidi naturali la prima degradazione per perdita di un gruppo carbossilico la seconda per aromatizzazione di un anello questo è confuso perché in un primo tempo questi ricercatori sostengono che il cannabinolo abbia delle proprietà narcotiche in realtà il cannabinolo non ha proprietà narcotiche ma evidentemente non è molto pura la loro preparazione dicevo tragico perché secondo molti libri tutti e tre i ricercatori morirono in incidenti di laboratorio in realtà andando a leggere la letteratura originale sono riuscito a concludere che morì soltanto uno in un incidente di laboratorio in una nitrazione del cannabinolo su grande scala morì in un incidente di laboratorio uno dei tre ricercatori che avevano isolato questo composto ma a Cambridge subisce anche capita anche qualcosa di altro molto curioso la distillazione come dice Primo Levi è un'attività lenta è come andare in bicicletta uno ha tempo di pensare purtroppo durante la distillazione possono anche venire fuori delle idee balzane così questi tre ricercatori danno i loro preparati di cannabinolo il quale un giorno sta distillando del dietilzinco il dietilzinco è estremamente infiammabile se io prendo del dietilzinco e lo spruzzo da una siringa mi viene fuori quell'incendio e praticamente questo ricercatore è annoiato dalla distillazione del dietilzinco allora assaggia quello che gli hanno dato i suoi colleghi si mette a ridere non capisce più niente entra l'aria nella distillazione il dietilzinco si incendia tutto prende fuoco il laboratorio prende fuoco accorrono a soccorrono e lui inebetito continua a ridere e non capisce niente a questo punto l'università di Cambridge vista la morte visto i gamamenti brucia tutto chiude le ricerche sui cannabinoidi l'inizio quindi è confuso e anche tragico le ricerche non si sa la struttura del cannabinolo si sanno solo alcune notizie alcune informazioni molto preliminari e la struttura però del cannabinolo viene chiarita all'inizio degli anni 40 da due grandi chimici che lavorano in competizione Roger Adams è il più famoso chimico organico dei suoi tempi è un chimico della vecchia generazione lavora all'università dell'Illinois mentre Todd Alexander Todd appartiene alla nuova generazione dei chimici inglesi e lavora a Manchester Roger Adams viene contattato dall'agenzia americana dei narcotici che gli dice senti dà un'occhiata alla canapa e guarda un po' se si riesce a fare la struttura del cannabinolo e capire quali sono gli agenti narcotici però a quei tempi e purtroppo questa confusione c'è ancora oggi invece di dargli la canapa narcotica gli danno la canapa da Fribe del Minnesota per cui Roger Adams non riesce a ripetere l'isolamento del cannabinolo che è un prodotto di degradazione del principio narcotico della canapa isola un altro composto che chiama cannabidiolo a Manchester Todd lavora invece su un campione fresco di ashes che un suo collega ha preso in India l'ha messo in una valigia diplomatica ed è riuscito a portarlo in Inghilterra anche lui replica le osservazioni di Adams non si riesce a isolare bene il cannabinolo però si isola questo nuovo cannabinoide il cannabidiolo il cannabidiolo non ha proprietà narcotiche però Adams e Todd fanno un'osservazione importante che cioè per trattamento con acidi il cannabidiolo dà origine a una miscela di composti narcotici i tetraidrocannabinoli né Roger Adams né Alexander Todd conoscono bene la struttura di questo tetraidrocannabinolo non si conosce la configurazione e soprattutto non si conosce la localizzazione del doppio legame Roger Adams ebbe molti problemi per i suoi studi sulla canapa e nonostante venisse da una famiglia che aveva dato due presidenti agli Stati Uniti finì nelle persone sospette durante la seconda guerra mondiale questo per due ragioni la prima i suoi studi sulla marijuana e il secondo la confusione con un club in cui era lui era iscritto con un club invece di propaganda per il Giappone per cui diciamo che l'ente dei narcotici americani non si fidò mai del tutto di Roger Adams proprio per via di questa confusione Roger Adams fa anche un'osservazione importante qui adesso è un po' difficile da spiegare cosa succede allora oggi queste cose non capiterebbero più nessuno nessuno pubblicherebbe delle ricerche di questo tipo abbiamo detto che Roger Adams non sa non conosce la struttura precisa del THC del tetraidrocannabinolo non sa la stereochimica non sa neanche dove è messo il doppio legame però sa fare bene in laboratorio un composto che è diverso che somiglia al composto naturale allora si mette a studiare come la modificazione di questo composto alteri il profilo biologico e scopre il primo cannabinoide ultrapotente il piraesile il piraesile viene fatto nel 1942 da un fu collaboratore il quale poi lo assaggia all'inizio non capita niente poi torna a casa e comincia a sentirsi intontito questo è quello che riporta in particolare non riesce a rispondere alle domande della moglie perché non riesce a ricordarsi le parole che dice a un certo punto è talmente confuso che dice alla moglie guarda forse ho preso qualcosa in laboratorio telefona tu cioè non muore ovviamente visto che è stata intervistata e riporta questo però è in stato di confusione totale questo è molto importante gli Stati Uniti il Ministero della Guerra si accorge di queste cose questi studi sono stati pubblicati molto dopo la loro scoperta gli Stati Uniti non hanno firmato la convenzione sulle armi chimiche per cui gli studi su cannabinoidi proseguono in segreto nel col segreto militare e con l'obiettivo di produrre dei gas incapacitanti nonostante le ricerche sui gas bellici abbiano una pessima nomea in realtà queste ricerche sono nate per delle ragioni umanitarie cioè vedendo le ferite il modo in cui morivano i soldati al fronte si è pensato di come magari se li incapacitiamo non li uccidiamo ma li rendiamo gli inebettiamo come questo piraesile sarebbe perfetto sembra una cosa più umana poi in realtà c'è riprite venuto in mezzo di tutto però diciamo nonostante sia poco apprezzato la ricerca sui gas bellici comincia a scopi umanitari allora questo piraesile vedete poi si fanno anche delle modifiche i laboratori americani questo piraesile vedete ha una potenza straordinaria bastano pochi milligrammi per mettere completamente fuori uso e quindi incapacitare dal punto di vista bellico un soldato in realtà all'inizio degli anni 70 gli Stati Uniti firmano la convenzione sul divieto delle armi chimiche per cui questo tipo di ricerca si interrompe queste ricerche sono però molto importanti per lo studio dei cannabinoidi abbiamo visto che Roger Adams scopre che l'introduzione di gruppi alchilici in una determinata posizione tecnicamente la posizione benzilica porta a un aumento straordinario della potenza e qui è opportuno fare una precisazione teniamo presente che il THC come sostanza narcotica è già molto potente la dose narcotica endovena dell'eroina è 60-80 mg la dose narcotica del THC per inalazione è dai 2 ai 5 mg questi composti piresile simile sono attivi a dosi picomolari praticamente quindi frazioni di mg e alla Pfizer la Pfizer sintetizza alcuni composti che poi non verranno sviluppati come farmaci ma che però sono stati molto utili per identificare la presenza di recettori cioè di antenne specifiche nel nostro cervello che riconoscono i cannabinoidi purtroppo questi composti sono anche diventati droghe di abuso c'è da dire che quando si parla di cannabinoidi di sintesi generalmente non si parla di questi composti tipo piresile perché sono molto complessi da sintetizzare purtroppo i cosiddetti cannabinoidi di sintesi che dal punto di vista strutturale non hanno nulla a che vedere con i cannabinoidi sono estremolto semplici da sintetizzare sono dei derivati indolici sono composti ultrapotenti vengono spruzzati in piccole quantità su delle erbe la salvia il rosmarino erbe comune che poi vengono vendute come spice in realtà la farmacologia di questi prodotti è devastante e una grossa differenza tra questi cannabinoidi di sintesi e i cannabinoidi naturali è che mentre i cannabinoidi naturali si può dire di tutto si riguarda i loro effetti collaterali ma non si può dire che stimolino alla violenza invece questi cannabinoidi di sintesi possono indurre in alcune persone dei comportamenti di violenza estrema sia nei propri riguardi gente che si cava gli occhi ma ci sono delle cose veramente agghiaccianti che sia nei riguardi di altre persone incluso il cannibalismo sono fra le cose più tremende che abbia letto nella letteratura legale gli effetti di questi cannabinoidi di sintesi è un caso recente con una persona che si è cavata gli occhi è successo in Francia non molto tempo fa adesso siamo arrivati all'età moderna degli studi sui cannabinoidi negli anni 60 Raphael Meshulam che abbiamo visto prima isola il THC e chiarisce la struttura sia del cannabidiolo che del cannabinolo che del tetraidrocannabinolo poi vengono identificati anche dei recettori specifici per i cannabinoidi il CB1 e il CB2 e se ci sono queste antenne vuol dire che nel nostro organismo c'è qualche trasmettitore qualche cosa che viene riconosciuto vengono isolati anche i cannabinoidi endogeni e poi negli ultimi anni vengono anche introdotte nella medicina ufficiale dei farmaci a base di cannabinoidi questi farmaci a base di cannabinoidi hanno una storia molto particolare normalmente un farmaco nasce in laboratorio in un laboratorio chimico dal laboratorio chimico passa poi al laboratorio farmacologico si comincia a studiarlo sulle cellule sull'organismo poi sugli animali da esperimento e poi inizia la sperimentazione clinica fase 1 fase 2 fase 3 e così via i tre primi utilizzi nella medicina diciamo nella medicina convenzionale dei cannabinoidi sono stati scoperti dai pazienti in modo roccambolesco il primo utilizzo ufficiale di un cannabinoidi in medicina è stato quello per la nausea da chemioterapia è stato scoperto dal figlio di un docente alla scuola di medicina di Harvard negli Stati Uniti il quale poverino aveva la leucemia e dice a suo papà guarda quando fumo la marijuana ho meno nausea il secondo utilizzo la seconda scoperta di un utilizzo clinico dei cannabinoidi è ancora più strana penso che l'effetto del THC sul glaucoma abbia una delle origini più strane nella storia di medicina è stata scoperta dall'istituto di polizia di Los Angeles alcune droghe narcotiche hanno un effetto sulla pupilla alcune la dilatano come la scuola mina altre la contraggono come gli opiacei e il dipartimento di polizia di Los Angeles un giorno voleva cercare di capire se fosse possibile diagnosticare l'intossicazione da cannabinoidi andando a vedere la dimissione della pupilla cosa facciano i cannabinoidi sulla pupilla non si è mai capito bene normalmente non fanno niente alcune persone la dilatano un po' altre la restringono di sicuro arrossano l'occhio però fra questi volontari uno ha il glaucoma e si scopre che i cannabinoidi abbassano la tensione dell'occhio ecco c'è da dire una cosa che sia per la nausea da chemioterapia che per il glaucoma abbiamo dei farmaci che funzionano molto meglio dei cannabinoidi in particolare per il glaucoma nessuno si sognerebbe a meno di essere insensibile a tutti i farmaci per il glaucoma di utilizzare un cannabinoide per il glaucoma l'azione è molto breve uno ogni 5-6 ore doveva mettersi delle gocce negli occhi il terzo utilizzo è quello per lo spasmo da sclerosi multipla e anche questo è stato scoperto per modo di dire dai pazienti uno si chiede ma questo è generalizzabile se io vado su internet e guardo i potenziali effetti benefici della marijuana allora chiudiamo le scuole di medicina schiudiamo le facoltà di farmacia perché curano tutte le malattie però pensate a Bob Marley la marijuana cura il cancro quel poster dice prova a chiederla a Bob Marley Bob Marley ebbe poverino un melanoma nell'alluce e normalmente questo melanoma nell'alluce l'alluce viene tolto per via chirurgica e non porta conseguenze però Bob Marley per motivi anche religiosi si rifiutò di farsi tagliare un pezzettino di alluce dicendo io mi curo il cancro con la marijuana ecco come è finito lo sappiamo tutti c'è una grossa confusione purtroppo se devo dire fra i vari tipi di canape la canapa tipi diversi di canapa contengono composti diversi che hanno delle proprietà molto diverse fra di loro chi paga le conseguenze di questa scarsa chiarezza sono innanzitutto i pazienti adesso vi racconto la storia molto triste di questa Charlotte Figi Charlotte Figi è una bambina del Colorado che nasce con una forma genetica drammatica di epilessia ha una decina di crisi epilettiche maggiore al giorno questo tipo di epilessia genetica è un difetto del canale del sodio a niente a che vedere con le altre epilessie non ha alcun trattamento e i genitori però leggendo la letteratura vedono che ci sono degli studi in cui i cannabinoidi non i cannabinoidi narcotici il cannabidiolo ha degli effetti sulle epilessie su questo epilessio